Ehi, piccola challenge per te. Come pronunci queste parole che finiscono in U-R-A in inglese? Proviamo. Questa? E questa? E questa qui? Se hai detto nature, forniture e litterature... No, 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 no. Non ci siamo. La pronuncia corretta è nature, furniture and litterature. E ti do un piccolo consiglio. Per migliorare la tua pronuncia, seguici su lezione di inglese.net. Ciao e alla prossima!